ecco ora ho mai più maledetto ma va fa bene va non mi vedi? vai tocca a me ora che bella l'altra parte che potere impressionante grazie è certo il potere datterò non faccio niente che tatuano eh oh che bella grande Miki vai Leo puntiamo un po' il finale delle carparughe e poi il video si conclude prendendo il dialogo grazie a tutti